ciao a tutti buona giornata sono le 5 e 15 di mattina 5 e 18 di mattina e quindi devo fare pianissimo perché sono svegli vicini allora i vostri spartiti stanno arrivando e alcuni sono meravigliosi vi mostro questa tarantella napoletana la la mimmi la la mi re mi fa 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 mi oppure la si do si do re la si do si do re la si do si do re quindi tantissime cose antiche e moderne cercherò di fare tutto al più presto adesso mi devo trascrivere e mettere sotto i nomi delle note quindi grazie di cuore continuate a mandarmi spartiti un abbraccio a tutti e buona giornata